Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di minecraft Oggi siamo in una nuova mappa che si chiama E quello cos'era Esatto si chiama così la mappa si chiama così E non so di preciso cos'è questa mappa E neanche cos'era e tutte queste cose Così Allora partiamo subito così Anzi questa è what was that numero 2 Quindi è insomma ci siamo persi la prima Ma va bene così va bene così C'è questo è il creatore della mappa questo CMLSC Beh sembra un codice inizio di un codice fiscale Ciao mi chiamo Cammelosc Cammeloscano un nuovo cantante di Sanremo E a parte il fatto che sembra tipo troppo una patata Con due occhi e una bocca Però va bene lasciamo stare Di qua c'è la stessa medesima cosa Questo blocco di legno deve essere usato più volte nelle strutture Ti do ragione è un bel blocco Soprattutto il contrasto tra l'arancione e il grigio Che non c'entra un cazzo zio Non c'entra proprio niente Ok ok Io direi che possiamo partire proprio sciallissimi a dire il vero Boom partiamo Allora Psss Vieni qui Quando hai dato un'occhiata a tutta la stanza Ok Va bene qua c'è un blocco all'interno Ma non penso di sapere Questa è definita come una puzzle room Quindi io non so di preciso Ma che cosa Di che colore era la clay Era il color ciano E infatti sono andato avanti Ora capito perché è una puzzle map Perché devo rispondere correttamente alle domande che mi vengono poste Ad esempio Qui sono tre Sono sei Sono tutta Ok Quanti cazzo sono? Uno Due Tre Quattro Sono dieci in Eiderworth E solamente tre sono cresciute del tutto Tre sono cresciute del tutto Due sono cresciute del tutto No tre Uno Ok Non ho più mia idea di quello che sto per fare Allora How much I never was used in the build Inclusa quella Nei blocchi Allora Minchia Posso tornare indietro? Non posso Allora direi 56 Eh infatti ho perso E mi fa ripartire a zero Ma sei serio? No Ma che davvero Mi fa ripartire a zero? Eh sei infame Allora nei blocchi Sai che non ho più minima idea? Non so questi come si fanno Né questi come si fanno Diciamo che sono dieci Quattordici Sedici Diciotto Venti E questi sono solo Neiderworth Sono tipo 29 38 47 56 65 74 83 Forse Non c'è Direi 64 Allora Neanche Beh zio Allora li proviamo tutti e va a fangala Voglio dire Eh Fino a una certa Ti do ragione Poi dopo un po' Allora Non erano 64 Non erano 56 Saran 48 E alleluia Ok quindi ricordiamoci Ciano e 48 Orca puttana Quanti lapislazoli sono questi? Dammeli tutti Ok è uno stack di lapislazoli Ci sono Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette 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 8 9 10 11 12 13 14 15 Sono 16 librerie Quanti 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 slab sono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 slab Penso di esserci La domanda è Qual è il livello più alto di enchantment che posso prendere? Se sono 16 librerie dovrebbe essere 30 E infatti sono andato avanti grande così Il bello è che ti fanno domande stronze però Cioè per futuro ho contato il numero di librerie altrimenti non sapevo come fare Allora Questa è l'unica bala di fiena di Bob Perfetto Ci sono 6 blocchi di clay rossa 6 blocchi di Grande pila di oro espanoso Beh va Siamo in Spagna 6 blocchi di oro Una Una cosa Ehm Non c'è moltissimo qui a dire il vero Allora Come è chiamata in inglese La cosa d'oro Di Bob Se Conosci Bob Se hai messo bene Allora è spugnoso o è spongi in teoria È spugnoso Sì è spugnoso Esatto Indovinato Grande così Grande così Allora Però sono domande strane Cioè divertente Sono domande strane Allora Qua sono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Qua c'è La pelle di coniglio Che era verso l'alto O verso il basso Verso l'alto Ehm Ti giuro Non so che domanda potrebbe darvi Non ne ho idea Non ne ho idea Tipo Boh Proviamo e basta Quali dei blocchi usati sono stati aggiunti nel Minecraft 1.9 Porca troia Di sicuro c'erano i buon bloc Quindi Il rabbitide c'era già Quindi questo No È serio Caputana Bracciano 48 30 Devo ricordarmeli per bene Questo Vabbè me lo ricordo Allora Di nuovo c'è I blocchi di ossa Nella 1.9 Al rabbitide Ma in teoria c'era già Nella 1.9 Cosa del coniglio Purpur block E varianti Anche Ma anche il rabbitide Ma mi sembra strano Il buon bloc per forza Sono sicuro Magari è questo Neanche Il culo Scusate Il buon bloc Quando cazzo L'hanno aggiunti Proviamo Questa qui Solo il purpur block Erano solo il purpur block Perfetto Ora qui Non ho più Un'idea di cosa si possa fare Qua c'è una porta Dito alla porta c'è niente C'è un cartello Con scritto lol Ok Quanti meloni ci sono 1,2,3,4,5,6,7 27 blocchi di melone Vai proviamo Cosa mi chiede Questa stanza Ricorda quale delle mie stanze Da find the button Allora find the button Io le ho fatte Però Ebo Direi La 1 Caputana Se è difficile Sta mappa Ricorda perché Non c'è il checkpoint Quindi devi rifartelo Ogni volta tutte E qua semplicemente Non è la prima Magari è la seconda Non è la seconda Perfetto Magari è il terzo Alleluia È il terzo Perfetto E in questa cosa Che cosa possiamo vedere Che di qua si sale Però Non so cosa c'è Ok Andiamo in tutto il tetto In realtà Di qua ci sono delle scale Nella fornace Non c'è nulla Non so sinceramente Che domanda potrebbe farmi Però lo scopriremo Penso tra poco C'è una cosa Detto la porta Oh c'è una cesta E la cesta è vuota E non c'è nulla Boh Uno due tre Sono cinque scalini Questa casa era fatta Per lo più da Cazzo Woodenplanks È tutta merda Nei miei occhi Tutta merda Terra No Spruce logs Non mi sembra O forse sì O forse sì Cazzo No Porca puttana Mi sembra di fare la corsa infinita Vado avanti all'infinito Così corro 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 E non mi fermo mai Corre 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 Non si ferma mai E surri E surri Ok Aspetta Questa è la tre È fatta di Spruce log Porca puttana Sti Questa casa è fatta Per lo più di Davvero di Di spruce Ah no Questi sono slab Non spruce logs Wooden slab Beh Wooden slab ci sta Planks slab Proviamo questo Eh porca puttana Ti giuro Mi sta salendo il nervoso E a sto punto Direi proviamo Questo qui Eh Orca puttana Allora per forza di slab Ormai imparerò Il giretto a memoria Ok Quindi Wooden slab Perfetto E qui Oh mio dio Sono uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sono otto Pezzi Di Terra Con i semi di sopra Sono due Tre Quattro Cinque Sono cinque pezzi Di quarzo E una lampada E il resto Boh Non c'è niente Boh Proviamo Allora Questo è un indovinello Nel senso C'è un problema Se pensi Che Le carote Ci mettono Tre giorni A crescere Quanti ne potresti avere Il massimo possibile In un anno In un anno Non bisestire Quindi trecentosessantacinque giorni Allora sono otto Giusto Ok facciamo così Devo fare Otto Però in teoria Non ti danno una sola carota Te ne danno di più Vabbè proviamo Faccio tipo Cos'è Faccio Trecentosessantacinque Diviso Tre Per otto E sono Novecentosettantatré Mi dice Novecentosettantatré Secondo me lo divido Per tre E due mila novecento C'è un Insomma è due mila e nove E infatti Perché le carote Ne danno sempre due o tre Mai una Perfetto Perfetto Ora qui Secondo me devo fare La divisione Del pane e del pesce Perché Devo dire Quanti pezzi di legno Ci sono in totale O separati O robe così Là c'è una lanterna Sono Oddio boh Contiamo Allora Partiamo da quella Della giungla Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Sono tre Di quegli arancioni Di acacia Quindi sono Otto Tre Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Orca Puttana Tipo Di legno Mancava Allora Spruce Mi sa che c'era Birch Mi sa che c'era Jungle c'era Dark oak Cosa Ok Dark oak c'era Quanto pare 2009 Ok Dark oak c'è Sai che forse manca No Spruce c'è Questo è spruce Ah no È dark oak Sai che manca lo spruce Sì Manca lo spruce Dov'è Spruce Boom Ok Qua ci sono Quattro colori Sono Viola Magenta Blu E azzurro No Questo forse è ciano Viola Magenta Bruciano Viola Magenta Bruciano Quanta Aria C'era Del coso Allora Ho quattro blocchi Levati Grande Più o meno Diciamo che più o meno Era un 8x8 Quindi sono 64 Blocchi Per Ho 4 Di altezza No Evidentemente Di più No Non era 64 Magari di più C'è un 496 Forse mai questo Infatti Infatti Grande Grande Ho raggiunto un checkpoint Grande checkpoint Porca puttana Si La pietra di Harley Harley Quinn Dove cazzo siamo Hunter Stone Herbert Stone Harry Stone Porca puttana Arley è rosso Harry è la pietra Herbert è la cobblestone Hunter è l'altra merda Porca puttana Questa è difficile Me lo sento Dove vive Herbert Herbert se non sbaglio Quella della cobblestone Probabilmente Nella sky Cazzo skyblock Infatti Se sei pieno di cobblestone Sei nella skyblock Ok Qui invece Questo è un bioma Della mesa Sono un botto di blocchi rossi Un botto di blocchi arancioni Sono in totale sette arancioni E il resto è rosso E in totale sono tre alberelli Ok Io me lo segno Quanti stick avessi potuto ottenere Dalle cose morte In teoria te ne da un paio Quindi sono due per te E sono sei E infatti E infatti Ok Solo perché la gente possa saperlo Quell'ultimo livello era un po' psicologico Stavo provando a testare Se le persone potessero capire Subito la domanda a cui ti riferivo Io pensavo ti riferissi alla quantità di blocchi Però va bene lo stesso Qual è la domanda qui? Quante volte ho usato la parola Hai? Porca puttana Non una Mi sa due O zero Non c'è manco lo zero Sai che non mi ricordo due? Cazzo non era due Vabbè Scialla Allora skyblock Sei Allora Ai Sono Uno Due Tre Vai sono tre Tre volte Perfetto Quest'ultimo era un altro esperimento Vabbè cazzo Oddio quanto legno c'è Dammelo tutto Sono 42 prezzi di legno Secondo me mi chiede comunque quanti stick ho fatto Quanti stick posso fare Sono 42 Il legno Il legno Vabbè proviamo scusa posso craftarli Sono 42 sono 84 Più Due Sarbbero 86 42 84 86 Ok aspetta avevo 42 pezzi di legno Quanto legno mi serve fare un cubo 4x4 Per 4x4 Beh 4 alla terza fa 64 Ero 42 In teoria sono 22 blocchi paolo cannone esatto esatto Questo è il cespuglio morto di bob dove siamo parcazzola in fight club e questa invece è la collezione di balle di fieno di bob qua c'è un grano pezzo di grano Bob's amazing stone solid shock of food and wonder giusto ci sono 3 6 sono 9 cose di coniglio La cosa mi dice che sarà una domanda su tipo su quanti slab ho usato per fare sta roba 3 6 Boh tipo 14 non lo so Che blocco non è usato nella cosa di bob Allora wooden stairs mi sa Wooden stairs E invece no porca puttana Qua 22 Allora dark walk c'è Le scale Ti giuro che io le scale non le vedo comunque Ah queste sono scale al contrario porca troia Ok I slab ci sono Quindi sono blocchi normali Dark walk Scale e slab E in teoria tutte zio come è possibile Le planks c'è Ci sono voglio dire Le scale di legno anche Wooden slabs pure Forse questo Esatto vai Non era dark walk sul serio Segue il tuo istinto addirittura Che cosa sta succedendo Patats Potato e Potato E qua c'è scritto potatù Che cazzo è I minion Banana banana Figure out the puzzle Allora A Patato Patati Patate Patata Mancava patata E infatti Mancava la patata mancava In questa mappa Ecco Questa sarà la vera domanda Che cazzo devo fare io Mo qui Mo lo vediamo Mo lo vediamo Questo è il formaggio di bob Vai proviamo Quanti tipi di cose gialle c'erano Il fiore La spugna La clay Sono tre Il vetro Quattro Quattro Porca troia Ti giuro pensavo fosse quattro Qua è la patata Allora spugna Fiore Ah è blocco d'oro Ok quindi sono cinque Anche la lana Sei Aspetta Uno Due Tre Quattro Cinque Cinque Tre Quattro Cinque No sono sei Ok Qua ci sono Quattro blocchi Carbone Smeraldo Ferro Diamante Carbone Smeraldo Ferro Diamante Quale blocco Non ha mai avuto La sua texture cambiata Sai che forse è il diamante Anche il blocco No forse è proprio Il blocco di diamante Porca troia No forse è lo smeraldo O forse è il ferro Diamante non è Carbone neanche Forse O forse è il carbone Proviamo Proviamo Ferro Proviamo carbone Oh va la va la Questo è il legno di José Il legno di Charlie Il legno di Larry E Michael's Wood Questi sembrano tantissimo Le cose di Tetris Tra l'altro E secondo me mi chiederà Come faccio a incastrare il tutto Quindi io metterei questo qui Tipo José con Miguel Questo lo metto qua sopra E questo l'ultimo Non lo so Charles Wood Allora che sono Birch Giungla O no aspetta questa non è giungla Oh sì sì giungla Normale E spruce Chi aveva il coso più grande Larry Larry Ok 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 ci sono Ci sono quante pecore ci sono qua dentro Uno due tre quattro cinque sei sette otto nove Sono dieci pecore Quindi mancano sei colori Quali colori mancano Porca puttana Manca il blu Il blu chiaro Il verde Blu blu chiaro verde Viola Oh mio dio Aggiungendo i valori Dei dati Per tutti i tipi di lana A che totale arrivi? Ma che cazzo ne so io Sì ho Lui la madonna quanto cazzo è lungo sto corridoio Google if you have to Ok Allora data value Orca puttana Devo ricordarmi cosa c'era ora Allora è 15 più 14 Non lo so Sono è 40 qualcosa Può essere 40 qualcosa Tipo 44 Non so se la staccavo subito Allora contiamo 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 C'è rosa Magenta e rosso Allora ragazzi In teoria Ho fatto il calcolo Dovrebbe essere una cosa tipo 63 qualcosa Quindi andiamo a dire dov'è il 60 Spesso ci non c'è solamente uno 63 Minchia c'è proprio il 63 Scialla Grande cazzo Abbiamo vinto? Cazzo abbiamo vinto Level maker take this Colone Cazzo è sta roba Posso buttarmi? Oddio This is the blank level Posso Piazzare un clone Posso fare un cazzo zio Oddio non lo so Ah mi sta spiegando come fai Ma a chi interessa Ragazzi Per questo video è tutto Vi ringrazio tutti i suoi Per lasciare un mi piace Se vi è piaciuto questo video Iscrivetevi al canale Se è ancora fatto Sommi su Twitter E su Facebook Comunque vi saluto Ciao Lo doro a tutti Iscrivetevi al canale Grazie a tutti i suoi